chiaramente qui il naso questo sarà così probabilmente sto naso viene un poco poco più avanti e chiaramente sarà qua qui 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 questo parte qui sta così questo sta sopra fa questo movimento qui gli occhi li vedo da sopra qui c'è gli zigomi chiaramente voi se ti studi un teschio come funziona no tutte queste cose qui ti aiutano se ti studi un teschio in funzione di questo è un metodo questo è un metodo per illustratori che dovevano beccare in tribunale il momento clou della della sentenza oltretutto vedi questo fatto qui mi fa capire per esempio che le orecchie in questo caso le avrei le avrei qui avrei più su non ce la possa avere qui perché questo gira in questo modo